Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo loro e disse loro, Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo, Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro, Ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati, saranno perdonati. A coloro cui non perdonerete, non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato di Dio, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo, e disse, Pace a voi. Poi disse a Tommaso, Metti qui il tuo dito, e guarda le mie mani. Stendi la tua mano, e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni, che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Dobbiamo essere, in un certo senso, riconoscenti all'Apostolo Tommaso per la sua incredulità, per aver voluto personalmente vedere e toccare Gesù risorto per credere. E così anche noi ci sentiamo più sicuri, più tranquilli, più convinti nella nostra fede in Gesù risorto. Gesù, nella sua bontà e misericordia, è venuto incontro a questo Apostolo dubbioso, incredulo nella testimonianza degli altri Apostoli. Abbiamo visto il Signore e si è fatto vedere e toccare per portare questo Apostolo, ma penso anche noi, a una forte fede. E Tommaso arriva a quella piena e grande fede con quella bella espressione «Mio Signore è mio Dio». È un'espressione che dobbiamo dire anche noi, nella nostra mente e nel nostro cuore, soprattutto quando c'è l'elevazione del corpo e del sangue di Cristo dopo la consacrazione. Io ve la suggerisco, però voi ripetetela nel vostro cuore. In questa espressione «Mio Signore è mio Dio» non c'è solo riconoscere Gesù, ma c'è anche amare Gesù. Quel «Mio» lì è molto bello, molto importante. Quindi, davvero, anche noi ripetiamo spesso «Mio Signore è mio Dio». È una bella espressione di fede e di amore. Da questa vicenda di Tommaso, che è una vicenda un po' eccezionale, come anche la vicenda dei Santi a cui è apparso Gesù, noi dobbiamo però tirare una conclusione. Non è una esperienza normale. Nella normalità, noi dobbiamo credere anche senza vedere. Ecco, è una pretesa quella di vedere per credere. Noi siamo beati, dice Gesù, se crediamo senza vedere. Noi siamo sì credenti, ma non vedenti. Però siamo credenti. E già quando l'Evangelista Giovanni scriveva il suo Vangelo, c'erano delle persone che credevano in Gesù risorto senza averlo visto. Credevano sulla base della testimonianza degli Apostoli. E forse tra gli Apostoli la testimonianza più sicura era proprio quella di Tommaso. La vicenda di Tommaso ha permesso a Gesù di dare una speciale benedizione anche a noi. È la beatitudine. Beati. Cosa vuol dire beati? Vuol dire essere persone serene, persone gioiose, persone contente, persone liete. È tutto l'opposto della infelicità, della tristezza, dell'amarezza, della depressione di coloro che non credono, di coloro che non hanno la fede. Quante volte anch'io mi sono sentito dire da qualcuno, beato lei che crede, io invece sono nella disperazione. E sì, perché in certe situazioni, davanti a certe malattie o certe tragedie, se non si ha la fede si va nella disperazione. Se invece uno ha la fede rimane un po' beato, perlomeno sereno, tranquillo, speranzoso, fiducioso. Ecco dunque, questa beatitudine della fede è molto importante. Anche io penso che noi ce l'abbiamo tutti e dobbiamo tirarla fuori, soprattutto quando c'è qualche problema, qualche difficoltà. E vediamo la differenza tra chi è chi crede e chi invece non crede. Chi crede è beato alla fin fine, chi non crede è un povero disperato. E qualche volta la disperazione porta a gravi comportamenti. Ecco dunque, un altro pensiero, il Vangelo ci precisa anche il luogo dove Gesù appare, dove noi dobbiamo credere senza vedere. Questo luogo, per gli apostoli, è il Cenacolo. Il Cenacolo è quella sala che era a porte chiusi in quel momento, dove Gesù ha celebrato l'ultima cena, che è la prima messa in pratica. Qual è il nostro Cenacolo, dove noi possiamo dire che arriva Gesù risorto a visitarci? È la Chiesa, sono tutte le Chiese, sono dei Cenacoli, perché si celebra anche lì la messa, che è la cena del Signore, in ricordo della passione, della morte e risurrezione del Signore. Gesù qui si fa presente nelle nostre Chiese, nel nostro Cenacolo, con il suo Vangelo, il suo insegnamento, e con il suo corpo e il suo sangue, la sua Eucaristia, di cui ci nutre. Ecco, quindi, qui, nella Chiesa c'è l'apparizione di Gesù risorto, naturalmente un'apparizione che noi vediamo con la fede, con la fede. Crediamo senza vedere, però crediamo. E poi, nelle due apparizioni, c'è un altro insegnamento. La prima apparizione non c'era Tommaso, nella seconda, otto giorni dopo, c'era Tommaso. E così si precisa anche il giorno in cui Gesù voleva incontrare i Suoi discepoli, voleva apparire a loro come risorto. Questo giorno, presso gli ebrei, si chiamava Prima Feria, da qui in nome dei giorni feriali, come li chiamiamo ancora noi. Ecco, quindi, è il giorno dopo il sabato, la prima feria. Presso i Romani, invece, si chiamava quel giorno Soledì, giorno del sole. Poi è diventato, poi c'è stato lunedì, eccetera. Ecco, il Soledì è sparito, prima feria è sparita ed è rimasto il nome Domenica. Questo giorno ha preso questo nome da Dies Domini Dominicus Domenica. Ecco, il Signore Risorto è il giorno in cui il Signore Risorto appariva. Ecco, qui in questo è bello, vedete, la trasformazione anche della religione cristiana sui nomi che si usavano a quei tempi, Prima Feria o Soledì. Ecco, dunque, allora dobbiamo pensare, essere convinti che per vedere, non con gli occhi, ma con la fede Gesù, per incontrare Gesù Risorto, dobbiamo venire in Chiesa, il Cenacolo, dobbiamo venire la Domenica, perché è il giorno del Signore Risorto, dobbiamo venire alla Santa Messa, dove Gesù si fa presente nel Sacramento, nella Parola e nel Sacramento. Allora il nostro credere, senza vedere, ci porta davvero sempre alla Chiesa, alla Messa e alla Domenica. Ecco, dobbiamo quindi promettere un po' di fedeltà al Signore. Se Lui è qui, se Lui ci vuole qui, se ci vuole questo giorno, se ci vuole a questa Messa, dobbiamo rispondere di sì al Signore. E quindi dobbiamo essere anche perseveranti e impegnati, solo così possiamo godere la pace e la gioia che Gesù dava ai Suoi discepoli. Certo, possiamo anche chiederci, ma dove era Tommaso la prima apparizione? Dove era andato? Eh, quanta gente? Ci chiediamo dove sono tutti, dovrebbe essere qui, e invece non ci sono. Quanta gente assente? E dobbiamo stare molto attenti, perché quando si resta troppo assenti da questo incontro col Signore, dalla Messa, dalla Domenica, a un certo punto si diventa non credenti, si diventa increduli, si diventa dubbiosi, come Tommaso, bisogna stare attenti. E vedi, tutti gli altri c'erano, lui mancava. Dove è andato? Lo sappiamo. Però quanta gente è assente? Poi comincia a diminuire la fede e anche magari a sparire purtroppo anche la fede. Ecco, l'esperienza di Tommaso ci ricorda anche, noi dobbiamo essere persone risorte, persone cristiane della risurrezione, per godere sempre questa pace. Gesù tra volte lo dice nel Vangelo di oggi, pace a voi e la gioia. I discepoli gioirono al vedere il Signore. Qui dobbiamo davvero essere, restare, poi uscire con questa pace e con questa gioia, se veramente incontriamo il Signore. Sappiamo che però i discepoli non erano in queste situazioni, erano un po' paurosi, erano agitati, erano tristi, erano depressi. E guardate che questa mancanza di pace e di gioia e queste situazioni colpiscono a volte noi, colpiscono anche le nostre famiglie. Sono un pochino esperienze da sepolcro e da morte. E allora quante volte le persone in generale, magari per cose da niente si irritano, diventano lamentosi, criticoni, sgarbati, villani. E magari per delle cose insignificanti angustiano se stessi e angustiano gli altri. E diventiamo magari arroganti, scostanti, irrispettosi, nervosi. Quanti di noi, analizzando proprio magari il nostro comportamento, i nostri sentimenti, dobbiamo dire che non sono molto risorto. C'è la mia psicologia, la mia anima, che è un pochino come quasi nella morte o nel sepolcro ancora. Ci vuole una risurrezione psicologica, una risurrezione spirituale. Gesù risorto ci invita a questa risurrezione, a questo rinnovamento, rinnovare un po' noi stessi. Innanzitutto, certamente, riconoscendo anche i nostri umilmenti, i nostri difetti, i nostri peccati, i nostri limiti, ma anche valorizzando le nostre virtù, i nostri pregi, le nostre cose buone. E poi anche nei confronti degli altri, bisogna rinnovarsi e risorgere, soprattutto avendo stima per gli altri, sapendo essere gentili, cortesi, veramente dare considerazione, dare amore al nostro prossimo, trattare con pazienza gli altri, dare a loro gioia, pace, serenità, allegria. Questa è la risurrezione, questa è la risurrezione che dobbiamo avere nel cuore e che dobbiamo comunicare. Ecco, questa risurrezione la dobbiamo curare, generare dentro di noi e poi dobbiamo trasmettere agli altri, a tanti altri che magari affrontano proprio anche la giornata con nervosismo, con la depressione, con l'apatia, con la stanchezza, eccetera, eccetera. Quindi con sentimenti un pochino negativi. Ecco, dobbiamo giudicare le nostre giornate che sono buone o cattive, dritte o storte, bianche o nere, non per quello che capita a noi, ecco, ma per quello che dobbiamo noi fare agli altri, donare agli altri. Dobbiamo fare in modo che la giornata degli altri sia una giornata da risorti, una bella giornata. Basta poco magari una frase gentile, un sorriso, un aiuto, un'amicizia, una cortesia, un piacere, basta poco per far star bene gli altri, per renderli più sereni, più contenti, per togliere da loro magari il freddo spirituale, psicologico, l'aridità, la nebbia del cuore, della vita, la sofferenza. Dobbiamo sapere essere capaci di farli risorgere gli altri, di dare calore, di dare amore, di dare gioia e di pace agli altri. Questo è risorgere noi e far risorgere un pochino agli altri. Ecco, è un po' allarmante oggi nelle famiglie il fenomeno dell'autismo, l'autismo dei bambini, l'autismo degli adolescenti. Adesso gli psicologi si sono allarmati per questo fenomeno che c'è un autismo leggero, da un autismo pesante, pericoloso. E che cos'è questo autismo? Perché i nostri bambini si chiudono in se stessi, cominciano a non parlare più, a non comunicare più? L'autismo è una sindrome di abbandono, una sindrome di solitudine, dove sono i genitori di questi bambini? È una sindrome di trascuratezza e di negrigenza. Questi genitori trascurano i loro figli. È un sindrome di assenteismo, di nervosismo dei genitori verso i bambini, verso i figli. E allora arriva l'autismo. Morti loro, papà e mamma, come papà e mamma, morti, e fanno morire psicologicamente i loro figli. È un problema molto forte, molto grave, davvero. L'autismo è un po' il sindrome di quando non c'è la risurrezione, quando i genitori non sanno ottenere risorti i loro figli. Quindi dobbiamo fare in modo che davvero si risolvano questi problemi, soprattutto risuscitando il dialogo nelle nostre case, risuscitando la relazione, la comunicazione, la connessione, dicono oggi i ragazzi. E se non si è connessi con i figli, poi i figli si chiudono. Però dopo magari diventa un grave fenomeno, basta poco, basta cominciare ad essere presenti, a parlare. E qui i ragazzi si riaprano ancora al dialogo e alla crescita, alla risurrezione. Ecco davvero imitiamo un po' questo santo apostolo Tommaso, così da diventare noi spiritualmente risorti, ma anche capaci di far risorgere gli altri. E allora il Signore davvero con la Sua misericordia sarà presente nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri cuori.